buongiorno a tutti sono amiche 3100 3100 benvenuti alla nuova live con pinball arcade non fear dangerous parts della williams è stato finito di una vita di pippet tirare con un compenso, ripetere un salto, bellissimo per il cunner va bene add me, follow Earth di mia Earth se potete mi piace iscrivetevi al mio canale edwitch is coming benvenuti buongiorno, buongiorno, buongiorno buongiorno, buongiorno 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 è stato l'unico buongiorno buongiorno e anche chiama Ehi! Hurry up! Get out! Get moving! Reach for the summit! Quick! Hurry! Welcome to racing! How about it, bonehead? Shoot the track to win the race! Outrageous! 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 Time for violence... Get up! Go for the track! Run a driver! Second place is the first loser! Great shot! Excellent! Get ready for multi-ball! The second boss is the first learner! My father is the first learner! My wife is the last learner! The first learner is the right you can choose. The third learner is the right you need to choose The third learner is the right you can choose You can choose the right you can choose I will choose your left you can choose Let's get ready for the second learner! Definitely! Next person will use against a new arm Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Shoot the tube for more time and bigger points. This guy is crazy. Grazie. No. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti.